Mi sono giunto e lamentere che il vostro gioco è truccato. Ehi, come? Vuole proprio farvi chiudere. Non ci potremmo trovare un compromesso. Capisco, eh? Ehi, papà, credo che lui voglia... No, no, figliolo. Papà sta conversando con un poliziotto. Ammettiamone in questo modo. Sto cercando un certo quattrini. Avete visto per caso uno di nome quattrini? No. Lui è Bart. Ascolta attentamente e guardami ammiccare mentre parlo, ok? Ok. Il signore che sto cercando realmente, ammicco. E il signor tangente, ammicco, ammicco. Questo è il lancio degli anelli. E va bene, basta, questo pago viene sequestrato.